Alle porte l'edizione numero 48 della scalata al castello e dopo avere negli occhi e nella mente quello che è successo ai giochi olimpici, forse ci si approccia a questa gara anche con più gioia. Sicuramente, direi che l'occasione anche per ripartire, soprattutto Arezzo ha vissuto in questo anno e mezzo una sorta di blocco come in tutte le città. Però noi siamo riusciti bene o male a fare le nostre manifestazioni, la scalata al castello lo scorso anno non è stata possibile praticarla, effettuarla. Quest'anno ci abbiamo riprovato, il giorno che doveva essere come solito è l'ultima di maggio, era difficile, c'erano altre problematiche e allora siamo stati costretti a farla nel periodo estivo in un caldo così particolare di questi giorni, quindi direi una cosa impressionante. Però direi che la data potrebbe essere giusta anche per il prossimo futuro perché effettivamente abbiamo anche un cast di atleti, alcuni riduci addirittura dall'Olimpia di Tokyo, quindi questo ci fa estremamente piacere. E più abbiamo anche un cast di atleti azzurri che sicuramente faranno parlare di sé. Direi che in primis ci sarà l'ugandese Oscar Celimo che è campione del mondo dei 3.000, è un ugandese giovanissimo, 20 anni, quindi sicuramente farà parlare di sé in tutti i posti, addirittura ha evitato di andare a fare una gara di 3.000 metri in Polonia per fare la scalata al castello, quindi per dare un impulso importante. E poi ci sono gli azzurri che sono con Daniele Meucci, poi purtroppo non c'è Stefano Rosa che ha partito proprio con questi giorni la sua moglie e quindi non è nelle condizioni fisiche di poterlo fare. Però ci saranno altri atleti come Cappinelli, altro azzurro delle siepi, Zoglami, riduce dall'Olimpia di Tokyo, poi ci sarà Riva, insomma quindi ci sono tanti tanti atleti sia a livello maschile che a livello femminile. E la chicca proprio dell'ultimo momento, che l'ho saputa soltanto mezz'ora fa, è quella di avere la presenza di Stefano Baldini. Quindi Stefano Baldini, l'Olimpionico tre volte che ha vinto la scalata al castello, quindi in occasione dei campionati del mondo, dell'Olimpiadi e dei campionati europei, quindi questo ci fa estremamente piacere. Sarà quindi nostro ospite, farà lo speaker insieme a Michele Malescacchi proprio giovedì sera con inizio alle ore 20 per quanto riguarda la gara degli amatori, poi alle 21 sarà il settore giovanile. Alle 21.30 la gara internazionale femminile saranno sei giri e alle 22, diciamo, la gara a po' club, quella maschile, saranno circa 30 gli atleti accreditati per questa competizione internazionale. Non è più possibile iscriversi, immagino? No, abbiamo chiuso, mi dispiace anche per alcuni che ci hanno telefonato da diverse parti, non soltanto da Toscana ma anche fuori dalla Toscana, però abbiamo adottato il sistema di avere un massimo di partecipazione che doveva essere 200 atleti. Abbiamo sforato di una decina di atleti, però è proprio lì, non potevamo aumentare di più e quindi abbiamo adottato questo sistema che ci dispiace, alcuni sono rimasti fuori, sarà per un'altra volta, però d'altra parte la situazione non ci permette di poter fare questo. Speriamo, dato che il 26 di settembre avremo il campionato italiano di mezza maratona, di poter veramente accogliere 1.000-1.500 atleti, quindi quella sarebbe un grande spettacolo, però intanto andiamo così, direi grado per grado e passo per passo per cercare di far ripartire un po' questa macchina dell'atletica del podismo che quest'anno dato veramente grandi risultati in occasione delle Olimpiadi. E chissà che dopo i giochi olimpici non ci siano tanti ragazzini che abbandonano, non ce ne vogliano, ma insomma il pallone da calcio e magari scelgono le scarpette. E sai, diciamo l'effetto Marcello Jacobs sicuramente farà parlare di sé, Tamberi la stessa cosa, i marciatori, ma direi un po' tutto il movimento dell'atletica che ha fatto veramente un grande successo. Direi addirittura, anche io non pensavo, giovani emergenti che stanno dando filo alla torcia da tutti gli altri e anche proprio in occasione della scalata al castello avremo dei giovani emergenti che li vedremo già dalla categoria allievi e cadetti che saranno molto forti, quindi vedrete sarà veramente qualcosa da stupire.